Ciao, oggi noi siamo nei tuoi guidi virtuali nella presentazione dell'indirizzo linguistico del liceo via. Seguici passo a passo, ti assicuriamo che alla fine in questo piccolo excursus non metterà l'ora di cominciare a frequentarlo. Facendo una breve presentazione generica, occorrei dire che la nostra scuola ha due sedi. La sede principale che si trova a bracciano, a poca distanza dalla stazione e che ne facilita l'arrivo, e comprende tre diversi indirizzi, il classico, lo scientifico e appunto il linguistico, entro un'altra ad Angullara, con la sola eccezione del classico. Un'altra differenza riguarda il linguistico di Angullara, dove è possibile studiare lo spagnolo come la terza lingua straniera. Entrambi le sedi sono ben accessibili con entrate ed uscite coordinate con i mezzi pubblici, quali il Cotral e il Sea Tour. Il Vienna è un liceo che garantisce i suoi studenti il massimo, le aule spaziose e attrezzate di tutto il necessario, una palestra molto grande affiancata dai campi sportivi, diversi laboratori di cui parleremo in seguito, il vostro cortile scolastico accogliente e ben curato ed i benefici dal punto di vista dello studio. Il nostro liceo offre numerose possibilità per tutti i ragazzi che lo frequentano, tuttavia la maggior parte di queste sono garantiti solo a coloro che frequentano l'indirizzo linguistico. Innanzitutto i studenti di linguistico sono molto più facilitati nell'ottenere le certificazioni linguistiche dato che hanno una preparazione migliore e di conseguenza ottengono i risultati generalmente più alti. Inoltre soffruiscono di tutta una serie di vantaggi che permettono loro non soltanto l'apertura a nuovi orizzonti per mezzo di numerosi stagi e scambi interculturali che vengono tuttavia organizzati per tutti gli studenti del nostro liceo, attraverso il progetto Erasmus e la piattaforma di collaborazione internazionale Twinning, ma anche la capacità di avere tutte quelle competenze chiavi utili sia per l'università che per il mondo lavorativo in generale. Ma che cosa significa esattamente frequentare il liceo linguistico Vian? Ciò significa innanzitutto lo studio delle tre principali lingue straniere, quali l'inglese, il francese e il tedesco o lo spagnolo per il Vian di Anguillara, con un'ora settimanale di compresenza di docente di conversazione per ogni materia sin dal primo anno, il che contribuisce all'acquisizione da parte degli studenti delle capacità di apprendimento e integrazione. Inoltre, il triennio prevede anche l'approfondimento della cultura generale più ampia e della letteratura di ciascuna di queste lingue. Ad un primo impatto, ciò potrebbe sembrare un qualcosa di assai complicato, anche se in realtà risulta essere non solamente un'esperienza interessante e accattivante, ma anche molto utile, in quanto contribuisce tantissimo allo sviluppo del pensiero critico che si possa usare in ogni circostanza della propria vita. Da non dimenticare anche i numerosi scambi e stagi internazionali, le frequenti video chat con gli studenti stranieri oppure dei progetti online, che si possono svolgere nei due laboratori multimediali ben attrezzati. Il linguistico del Vian gode inoltre di un particolare privilegio, ovvero il fatto di possedere la sezione ASAPAC. Questa è un accordo estipulato tra i due governi, quello italiano e quello francese, che permette agli studenti che la frequentano di ampliare le loro conoscenze della lingua studiando la storia in francese, il che alla fine del quinto anno viene riconosciuto a livello internazionale grazie al doppio diploma. Il nostro è anche un linguistico dove si studia il tedesco, a differenza di tante altre scuole che non prevedono lo studio della seconda lingua più parlata nell'Europa dopo l'inglese. Questo apre tante porte a tutti coloro che decidono di studiarla qui, al Vian, aumentando le possibilità di trovare il lavoro. Speriamo che con questa breve esposizione siamo riusciti a spiegare a me i numerosi vantaggi che ti offre il liceo linguistico al Vian. Non vediamo l'ora di vederti qui tra noi. Ti aspettiamo!